Luca, è il giorno di una presentazione di uno sponsor internazionale, si parla anche di voglia internazionale perché tra pochissimi giorni, giovedì, c'è l'esordio in Champions. Sì, siamo carichi tutti questa mattina, belli riuniti, qualcuno si è allenato, noi abbiamo avuto questa piacevole riunione e presentazione, comunque indubbiamente la concentrazione è rivolta già anche a giovedì, dopo tre belle prestazioni che abbiamo fatto qui nell'Italia, andiamo all'estero, in Europa, ci sarà anche un viaggetto abbastanza lungo ma in ogni caso avremo due giorni per preparare e studiare tutto della squadra avversaria e sappiamo che non sarà semplice anche perché è in trasferta, per cui siamo comunque belli energici e preparati. L'avete dimostrato anche sul campo di Verona, insomma, nonostante la stanchezza, nonostante non vi siate allenati tanto insieme, dal punto di vista della testa ci siete pronti ad affrontare un'avventura nuova che vi siete conquistati sul campo. Sì, ha aiutato anche un buon ritmo a cui ci siamo subito, diciamo, ci siamo proprio divertiti a giocare a quel ritmo lì che forse mancava un pochino nei set precedenti partite e ci ha aiutato questa consapevolezza di poter reagire anche a una pressione importante contro una squadra importante e abbiamo giocato direi quasi serenamente, confinando l'uno nell'altro con tante prove anche tecnicamente in difesa, a muro, in battuta, abbiamo giocato molto bene, per cui bravi noi. Cosa significa per te affrontare la Champions League, la più importante delle competizioni europee per club? Ma indubbiamente è un balcoscenico diverso che guarda appunto tutta l'Europa, forse anche tutto il mondo, e responsabilizza molto appartenere a questa fascia più alta in Europa e dobbiamo fin da subito guardare alla fase, alla prima fase, alle prime partite perché sarà un cammino in crescendo, un cammino in salita e ogni partita sarà sempre più difficile. Luca, in queste prime partite di campionato abbiamo visto un vettore più grintoso, oltre che ottimo in campo, è una nuova versione di vettore, vivi voglia di giocare, magari da parte di nazionale, sei stato un po' troppo spesso in panchina. Sì, indubbiamente avevo voglia di giocare, era un po' un riscatto proprio così, come presenza mia personale, e per quanto riguarda la grinta è tutto un percorso, quindi come posso dire che sia migliorato a livello tecnico, si può lavorare sempre e comunque anche sul carattere, sulle emozioni e chissà che alla fine dell'anno magari direte che sono ancora diverso.